E dai suoi discepoli, detesi, prendete e manciatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio a te. Dopo la cena, allo stesso modo, presse il calice e rese grazie, lo diede e iscrivetevi e disse, prendete e bevete le mie, questo è il calice del Dio Santo, per la nuova e l'eternale ansia, versato per voi e per tu, in premissione dei peccati, fate questo in memoria di voi. Grazie.